Noi siamo qua dal 1983. A dire la verità non abbiamo aperto, non erano aperte i miei suoceri. Erano altri tempi, però noi siamo qua del paese, quindi per noi andare via di qua è praticamente una cosa impossibile. Noi apriamo il negozio alle 5 e mezza di mattina e fino alla sera alle 8 ci siamo. Le persone ci chiamano a casa, certe volte sentiamo che comunque siamo un punto fermo del paese. Io ringrazio veramente la regione Liguria per questo bando che siamo riusciti a partecipare perché in 30 anni che abbiamo questa attività non abbiamo mai fatto un bando del genere e siamo veramente contenti. Con i soldi che ci hanno dato dal bando della regione siamo riusciti a rinnovare la parte esterna del negozio. Abbiamo fatto dei lavori all'interno alle nostre macchine e poi ci ha aiutato a comprare la roba che noi normalmente vendiamo. È stato veramente un aiuto prezioso, ecco prezioso.